Continuare a segnare in questo modo e soprattutto essere decisivo per il bravo, perché dopo 2 ore a Castellazzo, 2 ore a Casale, sono 6 punti pesantissimi. Sì, sono 9 punti forse nelle ultime tre partite. Adesso non mi chiede la classifica, ma penso che sia messi bene in classifica. Noi non ci poniamo limiti, speriamo di farle sempre meglio. L'obiettivo comunque è la zona alta della classifica, play-off, si possono dire questa parola? C'è il presidente e il direttore? Vabbè, diciamolo, dai, speriamo, sogniamo, sognando, dai.